Io vado! Oh no, signora! Attenta, sto per... Stupenda! Aspetta che la vedano le amiche del bingo! Sì, beh, si stringa i gioielli! Oh, vai tranquillo! Mi servirebbe un nuovo paio di orecchini! Sì, ma non accadrà, beh, tutto ciò che... Oh, il tuo pancino da ragazzino è tutto un dolorino! Sai, questi motori moderni rallentano, sono ancora perforati e ancora non hai visto la mia nuova arma segreta! La senti? Sta per arrivare! Rassegnati, non ci sarà scampo! La vostra mostruosità moderna verrà ridotta a pezzettini! Quel trabiccolo non va più veloce! Arriva in tempo record! Se ti stai per sentire male, fammelo sapere, caro! Non potremmo darci una mossa! Ma tutto moderna è così impaziente! Hola, aristocordo! Cosa? Già, fai bene a fidarti dei tuoi occhi, stai ammirando i piragni a vapore! Con fauci abbastanza potenti da poter ridurre in fantumi il volgare obbrobrio! Questa non te l'aspettavi, vero, Tennyson? Ha ragione, questa non me l'aspettavo! Oh no, è iniziata la rivolta dei pensi! Povero Ben! Perbacco, hai alleggerito il tuo stomaco sul calamarogio, ragazzino disgustoso! Ben! Sto troppo male per fare l'eroe, non posso farcela! Lo so che è difficile darci dentro quando non ti senti in forma, ma come ti ha detto Gwen, lascia da parte i dettagli e concentrati sul problema! Cioè, è come fissare l'orizzonte! Ehm, forse mi sono confuso un attimo, non so se... Giusto! Ok, ci provo subito! Ora come ti senti? Sai una cosa? Sì, mi sento molto meglio e pronto a scatenare l'inferno! Sì, mi sento molto meglio e pronto a scatenare l'inferno! Sì, mi sento molto meglio e pronto a scatenare l'inferno! Sì! Questo intendo per potenza di fuoco! Sono tutto un... Accidenti! Ok, concentrati! Prima elimina Vapore Smite, poi quei malvagi robot piragna! Con lo sguardo all'orizzonte! Venge! 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 Grazie a tutti.